E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo la notte andiamo ad approfondire due argomenti importantissimi perché uno è ciò che sta impazzendo su Twitter cioè il discorso che ha fatto Donald Trump riguardo le crypto andando anche un po' a prendere in giro Biden a riguardo e poi FTX perché tornano i fondi con gli interessi capiremo se come saranno valorizzati ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qua sotto se vi fa piacere ricevere questi contenuti on time quando serve mi ricordo tanto col canale è fondamentale il vostro supporto e vi ringrazio perché in questo periodo come già vi dicevo stiamo crescendo veramente tanto in più ricordo un like e utilizzate i link se volete che trovate qua sotto in descrizione perché sono i principali servizi che utilizziamo anche noi personalmente e vi danno gli sconti più elevati del settore soprattutto aiutano anche il canale a sostenersi quindi è un piccolo gesto che però aiuta a potervi portare tutti i giorni questi contenuti quindi se vi fa piacere riceverli non vi costa nulla potete utilizzarli da lì detto questo ragazzi partiamo perché abbiamo un sacco di cose da dire allora partiamo proprio dalla prima questione quella di Trump perché gira questo video nella quale c'è stato questo discorso di Trump e poi ha iniziato a fare delle domande e ha iniziato a parlare anche di cripto perché gli è stato chiesto di cripto cosa ne pensasse eccetera delle restrizioni poi vedremo un secondo video ebbene lui ha risposto che appunto Biden non sa minimamente di base cosa siano queste cripto e che se ti piacciono le cripto allora dovresti fare bene a votare per lui allora è ovvio che siamo in campagna elettorale è ovvio che c'è tutta questa questa sorta di accappararsi più voti possibili quindi attenzione sempre a tutto quello che viene detto perché sì può voler dire qualsiasi cosa questa risposta in ogni caso sappiamo che c'è stata un'esposizione da questo punto di vista gira anche quest'altro video che in realtà sembra togliamo l'audio sembra più strano un po' più divertente ora sembra che questo ragazzo Mono Balcom che comunque ha un profilo molto seguito ha proprio chiesto a lui cosa ne pensasse del fatto delle cripto che fossero sotto attacco e lui ha risposto appunto che è vero sono sotto attacco e lui non vuole questo e non vuole che il business cripto fada al di fuori dagli Stati Uniti proprio per questi motivi e che di conseguenza appunto ha ragione e fondamentalmente lavorerà nella direzione di portare questi business di mantenerli sul territorio quindi essendo meno stili come regolamentazione nei confronti delle cripto saremo a vedere perché sicuramente sappiamo che è molto gettonato all'interno degli Stati Uniti la sua candidatura e quindi potrebbe portare ulteriori sviluppi su questo fronte qua però quello che invece ieri ha fatto sorridere un po' di persone è quello che è uscito da FTX perché si sono esposti dopo quasi ormai due anni, quasi un anno e mezzo dal fallimento della società si è arrivati a un piano strutturale di rimborso che viene appunto definito finale se passasse nella valutazione che viene fatta poi dai creditori che cosa è sorto agli sguardi degli attenti appunto utenti? quello del fatto che ci sono degli interessi sui rimborsi del capitale ovvero verrà rimborsato tutto, quello che è la vostra giacenza con un interesse in questo caso si arriva, qui c'è un 100% più 9% di interesse anche se in realtà si arriverà a un massimo di un 118% per alcune situazioni che chiaramente vanno a dare appunto quello che è la possibilità anche di avere un interesse sui fondi che sono rimasti loccati ora sembrerà che vi stanno regalando soldi, sto solamente scherzando ma nel senso perché ovviamente ha creato un disagio incredibile a tantissime persone ma appunto è legato anche al fatto che la liquidità è rimasta in cassa e che quindi con i tassi elevati si arriva ad avere un effetto anche compounding in due anni quindi non è nulla di esagerato insomma questo interesse però il fatto che è stato ritrovato parecchio capitale c'è solo un piccolo problema che va approfondito cioè il fatto che comunque sia la maggior parte delle cripto vengono valorizzate alla data di fallimento che cos'è? è la data di appunto di bottom di mercato perché lì poi c'è stato in quelle zone lì il bottom quindi se voi avevate delle cripto molto probabilmente queste sono state convertite in dollari e di conseguenza poi da lì vi dicono ok vi diamo l'interesse ma avete dollari non vi vengono restituite cripto almeno questa è la prima indicazione che viene data e che quindi capite bene che se voi avevate magari mezzo bitcoin faccio un esempio che era valorizzato 10.000 dollari non vi ritrovate oggi non so 30.000 dollari più interessi ma vi ritrovate 10 più interessi questo è il discorso se invece detenevate esclusivamente dollari a quel punto era un vantaggio cioè è un vantaggio perché chiaramente dollari per dollari avete poi il gain su quei dollari lì ok? quindi è come se li avete messi in un bond americano stiamo scherzando su dei fatti che chiaramente c'è poco da ridere ma in realtà appunto sembrerebbe insomma andare verso una direzione che ormai si va alla risoluzione finale che è ottimo per tutti gli utenti coinvolti andiamo a vedere invece quelli che sono un attimino velocemente gli inflow perché come avevo già visto questa mattina non c'era niente di particolare da segnalare e infatti credo che ancora debbano uscire dei dati un po' di tutti gli etf perché abbiamo solo un inflow di ibit che ci dà un più 11,5 milioni di dollari ma il resto rimane tutto più o meno stazionario prima di passare ai gainers e ai losers volevo invece segnalarvi che coincall ha distribuito ieri gli airdrop anche a noi è arrivato quindi se avete partecipato alla campagna appunto vi è arrivata un airdrop una location globale vi è stato alloccato il 20% che ha coperto già più di tutte le fee ok? quindi noi avevamo detto all'inizio che era una campagna anche dedicata a coprire le fee quindi a tradare a costo zero in realtà il token è salito di prezzo e che quindi adesso vedete che sta bene al di sopra delle fee che avete speso quindi in realtà è stato un rimborso più guadagno appunto con in token call pagato e poi andrà avanti appunto questa campagna ogni 4 mesi mi pare ma avete ricevuto comunque una mail sul vostro indirizzo nella quale vi spiega come va l'unlock di quei fondi potete chiaramente venderli, potete tenerli, potete scambiarli potete fare quello che volete quindi è un airdrop a tutti gli effetti contento per chi ha partecipato, vi so che molti, ne hanno scritto anche privato, molto soddisfatti proprio da questa cosa qua, è stata un'ottima sorpresa quella di ieri se ovviamente volete utilizzare coin call trovate il link in descrizione molto bene, andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore troviamo Caspa che fa un più 9%, eCash che fa un più 9%, Torching che fa un più 7%, Pepe un più 5%, insomma via discorrendo, tra i losers abbiamo Helium che fa un meno 8%, Axler un meno 7%, Sui un meno 6%, Warcoin un meno 6%, Bitensor un meno 5%, Lido un meno 5% e via discorrendo anche se vedete appunto Helium ma sempre conferma un po' di difficoltà in questo periodo e poi abbiamo Warcoin ma settimanalmente molto positiva, anche Agix per farvi capire non ha particolari effetti, criticità essendo settimane comunque positive anche se chiaramente il comparto al Coin rimane leggermente in sofferenza proprio per il discorso che Bitcoin deve un pochettino capire cosa fare da grande ne parlavamo già ieri, mi scuso se c'è un po' di lag nel momento in cui faccio vedere questi video stiamo cercando di risolverlo perché è una cosa temporanea eventualmente upgraderemo il nostro setup ma mi sembra strano insomma perché non ha mai fatto particolari lag ma in ogni caso appunto vedete come già ne parlavamo ieri di come bisognava mantenere lo 0,38 e 2, lo 0,5 sono queste zone qua che sono i 62 mila dollari banalmente siamo anche al di là, al di sopra di che cosa? di una zona importante che è questa qui, quella dei 60 mila 60 mila e 6 che è stata sempre una zona abbastanza importante di supporto per il prezzo di Bitcoin quindi non escludiamo nulla perché Bitcoin ci ha abituato ad essere molto aggressivo anche nelle move perché comunque veniamo già da tre giorni di scarico consecutivi potrebbe tranquillamente andare a fare anche delle situazioni di v-shape recovery quindi andare a fare un'altra situazione di recupero e di ritest delle zone 64 e 65 per poi avere magari un po' più di spazio per attaccare insomma queste zone qua non voglio tracciare particolari trendline perché non mi sembra il caso in questa situazione abbiamo troppo pochi punti di attenzione ne avevamo già tracciata una se volete proprio indicativa del downtrend ma ripeto non voglio fissarmi troppo su queste situazioni qua perché diventano poi più delle trappole a mio parere in questa fase qua e quindi si rischia di fare solo confusione ma in ogni caso tant'è sulla parte invece di Dominance siamo leggermente correggendo da questo top temporaneo che abbiamo preso ma ripeto rimane molto molto delicata la situazione perché comunque rimane forte la Dominance dopo aver recuperato questo pump e che quindi non potrebbe non ancora aver trovato una sorta di top e quindi di correzione molto aggressiva anche perché ripeto tutte le altcoin sono un pochettino lì al palo la maggior parte sono al palo poi è vero che voi avete mi dite ma la mia ha fatto ma questa ha fatto ok ragazzi stiamo parlando di settore di complessivo perché poi le rotazioni se arrivano arrivano complessivamente guardiamo sempre un po' le più capitalizzate soprattutto perché ci danno l'indicazione di come va il settore più attendibile è questa trendline appunto che avevamo tracciato ieri su Ethereum di come appunto già un recupero dei 3.200 potrebbe iniziare a darci indicazioni di inversione 3.200 e 3.300 prima di quelle cifre lì rimaniamo in una sorta di downtrend con supporto sui 2.800 ok questo è un buon buy zone se vogliamo no? a livello rischio e rendimento per un trade però stiamo ragionando in termini di trade ok? non in termini di long period detto questo ragazzi mi fermo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra come sempre noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ci sarà necessità vi ricordo un like, un'iscrizione dato un like il link che trovate qui sotto in descrizione appunto e noi ci aggiorniamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti